grazie per avermelo chiesto bene bene questo è molto importante per me no sempre è lo stesso per il personaggio poi ne parleremo creare sempre una connessione con le persone siamo questo mondo per questo e quindi è bello far fluire le emozioni così sto bene sono stanco mi stanno facendo fare un sacco di cose ma mi trattano molto bene molto bene grazie a sony a xn grazie a todos molto a rischio spoiler diciamo che ci sono state molte situazioni di forte livello empatico tra tra noi attori tutti assieme e questo era difficile molto difficile ed è strano tendenzialmente le storie si vanno a dividere no sono diventano molto individuali quindi la mia storia personale la storia di personale e invece in questa stagione dopo un momento di grossa crisi come gruppo vivremo i momenti migliori come gruppo consolidato e attorialmente e tecnicamente anche molto difficile fare delle scene di commozione pianto tutti assieme e invece probabilmente perché noi effettivamente siamo molto amici ci siamo spalleggiati e quindi io mi ricordo queste scene senza dirti perché ma dove eravamo tutti assieme a piangere e ci guardavamo e più ci guardavamo più piangevamo e quindi è stato è stato molto bello è stata una terapia di gruppo sì anche troppo ma troppo troppo nel senso sarà una 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 seconda stagione molto emotiva soprattutto le prime tre puntate le ultime due e io raccomando a tutti di di prendersi e tenersi vicini i kleenex e bene la prima volta in cui una serie italiana per quanto mi riguarda ha avuto questo successo in giro per il mondo e per me è stato strano più dal punto di vista dei feedback ho ricevuto dalla gente quindi se è vero che adesso i social ti mettono in contatto con tutto il mondo ricevere messaggi dalla nigeria tantissimo dal cile da latino a me da parte di latino americana mi mi ha fatto strano molto piacere cioè vuol dire che qualcosa è cambiato l'idea di poter andare in quei posti ad essere riconosciuto me incanta mucho no perché mi incanta perché 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 sono riconosciuto ma per quello che mi hanno scritto aver fatto qualcosa per delle persone così tanto lontane è bellissimo maraviglioso ho imparato a relazionarmi meglio con 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 tutto il reparto medico quando dico reparto medico intendo tutti gli ospedali e per cambiare la risposta rispetto a prima posso allargarlo e dire che è una di quelle serie che ti insegna e ti ricorda una cosa molto facile molto facile che ci dimentichiamo tutti sempre che qualsiasi persona con la quale tu stai parlando ha un sacco di problemi esattamente come te anche quella e forse soprattutto quella che sembra più felice e questa serie mette molto a fuoco questa posizione e quindi questa è secondo me la cosa più 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 utile che fa questa serie il punto di forza di riccardo è anche il suo punto debole infatti nella seconda stagione prima stagione è stato un punto di forza nella seconda diventerà un punto debole ed è la disponibilità la disponibilità con le persone con tutti è una cosa meravigliosa ma che costa molta energia e e soprattutto ti costringe a fare i conti sempre con te stesso e quando dai un po di te a tutti non hai più il tempo di consolidare la tua personalità cioè di quello che sei te e questo ti fa rompere è molto dispendioso essere ironici disponibili con gli altri questo spesso anche questo io sul set sono così esattamente così tutti lo sanno io sono quello che fa casino quello che fa ridere quello che porta allegria al gruppo e per me è molto dispendioso ogni tanto se lo dimentica la gente che è un lo faccio con piacere ma è una cosa che la sera quando sono a casa mi sdraio in divano mi sveglio esattamente così il giorno dopo ma è un lavoro che qualcuno deve fare mi aiutano tantissimo i libri i film io sono nottambulo vivo proprio tanto di notte quindi vado a letto alle due le tre di notte praticamente sempre quando posso e quindi i libri mi danno la possibilità di staccare il cervello e tambien i film mi piacciono molto i film d'autore che non so come film d'essere possiamo ad una categoria e l'ultimo film che ho visto in realtà l'ho rivisto perché perché mi è piaciuto molto ed è e taxi driver no taxi driver ma e taxi driver è un film coreano io ad esempio spero che non mi vogliano male i coreani io trovo che siano dei 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 registi magnifici hanno un modo di esprimere le emozioni completamente diverso dal nostro completamente anche a livello visivo figurativo quindi recitativo però stanno facendo dei film spettacolari se non l'avete mai visto e taxi driver è un film dove si piange si ride ci si emoziona è un film che racconta una storia molto bella di di rivolta popolare ed è un film meraviglioso no dille che domani mattina la chiama la interrogo e ti do anche un voto è molto strano è molto strano no lo dicevo anche prima bisogna abituarsi ad una nuova normalità e non credo che torneremo più indietro prima entriamo nell'idea di cambiare e prima torneremo a vivere meglio è tutto diverso ormai guardaci in questo momento siamo tutti dentro una mascherina e probabilmente la cosa peggiore è che ci guardiamo tutti diciamo potrebbe avere il covid ha tossito ma gli occhi rossi e questo mette le persone in una condizione di stress quotidiano la gente diceva prima che nella disperazione ma che bello il momento del lockdown sto a casa con la mia famiglia mi riapproprio del mio tempo e invece adesso è successo esattamente il contrario viviamo costantemente con la sensazione di aver perso tempo e che dobbiamo recuperarlo e quindi corriamo molto più di prima e a me è una cosa che mi rompe i coglioni l'ho detto mi toccano le narizze no 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 io ho detto proprio cojones basta non ci si può abbracciare anche baciare e gli abbracci gli abbracci sono scelti per le persone giuste l'abbraccio per me era una quotidianità l'abbraccio senza dire parole serve per dire come si sta serve per tirare su un amico ha una funzione multipla quindi abbraccio anche se mi gusta molto il bacio ciao amici di movies vi terremo compagnia vi faremo piangere vi faremo emozionare seguiteci su doc con i kleenex mi raccomando fidatevi di me ciao movies veronica in spagnolo 50 minuti ciao